Questo libro è stato pubblicato dalla casa editrice Panini nel 2016 per la versione italiana e di Hervé Tullet e si intitola Un gioco. Siete pronti a giocare? Via! Ah, eccoti, iniziava ad annoiarmi. Giochi! Poi, appoggia il dito sull'angolo in alto a destra e io inizio a muovermi. E ora mettilo su quell'angolo lì, in basso a destra. Super! Ora torniamo al centro della pagina. Dai, appoggia il dito. Fa bene muoversi un po'. Andiamo? Segui la linea con il dito. Ah, è divertente! Wow, è veramente forte! Che bello! Guarda, una giostra! Facciamo un giro? Salta sui pallini. Uno sui pallini blu, uno sui rossi e uno sui gialli. Vai! Fantastico! E adesso? Cosa facciamo? Ho un'idea! Nascondino! 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 Se mi vedi, metti il dito su di me! Bene! Andiamo a vedere cosa c'è di là! Entriamo! Sei pronto? Segui bene la linea! Brrrr! Tutto bene? Fai attenzione! Fai attenzione agli scalini! E quando giri la pagina? Non fare rumore! D'accordo? Usciamo in punta di piedi! Oh, phew! Oh, oh no, no! Non voglio andare di là, dai! Fammi scomparire! Appoggia la tua mano su di me! Chiudi gli occhi e dì... Zaccum! Ma, beh, detesto questa pagina! Ora capisci perché! Dai, dai, gira in fretta, gira in fretta! Ah, sì! Qui è molto meglio! Fammi riapparire! Batti le mani due volte e dì... Zaccum! Zaccum! Cum! Vai! Ah, grazie! Molto bene! Possiamo continuare! Ops! Un ostacolo! Metti il dito su di me! Premi forte! E poi staccalo subito, subito! Oh, niente male! Ancora un piccolo sforzo! Dai, ricomincia! Ah, ci siamo quasi! Dai! Questa volta soffia molto forte! Vai! E ce l'hai fatta! Cucu! Mi vedi? Sono qui! Sì! Sulla tua testa! Incredibile, vero? Dai, squati la testa per farmi scendere! Wow, che bel gioco! Ci siamo divertiti, vero? Dai, dai! Continuiamo! Stop! Semaforo rosso! Devi contare fino a dieci! Ah, va bene! Puoi passare! Puoi fare giravolte! Puoi correre! Puoi saltare! Puoi volare! Ehi, dimmi, tornerai a giocare con me?